Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro Draven, con me Mirko e Tommy, salutati. Ciao ragazzi, Tommy? Tommy? Molto Tommy, perfetto. So chi prende. Non aspetti il cavera? Non aspetti il cavera. E vai. Oggi, oggi così. Non salutare, mi raccomando. No, ciao a tutti. Aspetti il cavera e facciamo il collegamento. Proviamo le due volte così. A posto. E anche qua, almeno così ce l'abbiamo. Non ci facevo questa difesa attiva, la Raffa non te l'assoni neppure. Eh, come nello scorso episodio. Mi ricordo com'è andato. Eh, vabbè, vabbè. Chieta che è queste piccole cose però. Ed è già una morta. Ciao Twitch. Buona. Buonasera Twitch. Ehi, mamma mia. Se riesci ad arrivare alla mia posizione ti cura. C'è il montagno, c'è il montagno. Arrivo, arrivo. Buona, questo questo ne ho fatto due. Eh, ma c'è l'ultimo in montagna? Dietro, dietro di te. È il montagno, devi farlo tu. Ok. Da qualche posto, se ce la fai. Vai. Buona, grazie. Dove è il montagno? Ce l'hai qua, nella porta principale, nel garage, sulla sinistra. 8 minuti di challenger. C'è già il challenger. Secondo il rasso, bravo, dai. È l'ultimo rimasto, dai. Io non challengeri lo stesso. Il challenger. Tenete dentro, non muovetevi, siamo già in tre fuori, raga, eh. Questa è una gangbang più grande di non so cosa. No, 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 ok. Cioè, veramente, si girava lì il centimetro di pixel, non riuscivo a farlo fuori. Veribile. Vabbè, l'abbiamo gangbangato malamente. Buona, 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 la prima noncavera buona. Toucher. Ecco, ho abbandonato uno, è il loro, va bene, ok? No, no, lasciatemi, esch, 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 miro. Esch, miro. Mirko, mi servi tu. Dobbiamo, se sono sotto, dobbiamo sfondare del pavimento. Guarda che dotazione che ho preso, Raffaele, guarda che dotazione che ho preso, Raffaele. Pabam, così proprio, pesantissimo. Così, si fa senza futura adesso. Sono sotto. Confermo, confermo. Sotto, confermato. Ok, drona, drona, drona. Drona, tutto bene qua, eh. Aspetta che sto controllando. Bagno, tutto. Allora, fino a sala piena dovrebbe essere libera, aspetta che controlli il bagno, aspetta che controlli il bagno. Sì, devi controllare il bagno. Libero il bagno, libero il bagno. Però più che altro ho paura che salgano. Vai, 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 cluster, cluster qua, cluster qua dove sono io, vieni, ti copro. Coprimi. Vai, 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 vai. Vai, vai, cluster lì. No, non è la stessa più. No, non è la stessa più. No, non è la stessa più. Questa, cluster qui. No, non è la stessa più. No, non è la stessa più. No, non è la stessa più. No, ho ucciso, ho ucciso qualcosa di me. Ok, vai in A, cluster in A lì, 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 lì. Se ce la fai? Quella, cluster lì. No, non è la stessa più. C'è lo Jäger nella stanza dovrei tu, Mirko. No, 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 scale gialle, scale gialle, scale gialle, scale gialle, scale gialle bandit. Dobbiamo tenerlo in questo modo. Cacchio! Fallo, fallo, fallo. Eh, no, era troppo complicato, no, non la fa niente. Proponiamo caveira, è andata bene la prima. No, siamo uno in meno, siamo. No, no, adesso... Vabbè, anche loro, anche loro, eh. Non è morto, non è morto! Eh, l'ha fatto, invece! Possibile anche uno qua? Nell'ufficio del console? No, è qua, nelle scale, 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 Tommy, ce l'hai tu. Occhio. Scale gialle? Ma dove cacchio hanno piazzato? Io non c'era nessuno, nella sua bomba. Ah, ma l'hanno piazzato? Nella bomba, sì. Ok, lì, lì, è una balconata. Aspetta, faccio il giochetto. Copritemi. Buona? LOL. Buona, 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 buona. Ero dove disinnescata. È così. Non so dove erano gli altri, che sono ancora montagne vivo, ma... Ah, è fuori, ok, è posto. Giù hanno vinto, quindi saranno sopra anche loro. Toucher non ha molto senso. Vado di... Capitao? Allora, raga, tenete tutti i droni. Dronate bene, prima di entrare. Ci chiamiamo i droni, per favore. E avanziamo assieme. Droni avanza, droni avanza. Gigi, 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 proprio. Mirko, devo entrare in uffici, mi aiuti? Lascio un drone. Lascio un drone, importante. Sto arrivando, aspettami. Vai, dimmi se posso andare. Vai, vai, vai. Occhio a sinistra. Ok, sta scendendo qualcuno. Dai, schiera a sinistra, no. Fermo, fermo. A destra, occhio. Su il drone. È sopra di noi. Ma quel drone? È scelta a destra. Eh, eh, eh. Meno male. È troppato, è troppato. Meno male, meno male che non c'è nessuno. Eh, no, era libero, perché ha fatto un buco sopra. Vabbè, io ho passato a destra, allora. Jäger preso, lo Jäger preso. È morto lo Jäger e sono morto pure io, maledetto. Comunque, ragazzi, da solo. Avremmo già piazzato, avremmo già piazzato. È da solo, è da solo. Piazzati in B. Cosa sta andando questo Ghiar Ciro? Chi ha la bomba? Io non lo so, Twitch. Ok, sta entrando Twitch. Piazza, piazza Twitch. Piazza. Segre, segre di piazzare, segre di piazzare, segre di piazzare. Dai. Oh, buona. Mamma mia, oh, ma quanto è stupido questo. Avremmo già vinto, avremmo già piazzato in A da una vita, perché io ho un'altra bomba. Buona, buona, buona. Dai, Caveira, full match Caveira, dai. Andata. Sfruttiamolo finché va bene. Ottimo. GG. Eh, ma Raffaele vinci le partite solo con... Eh, vinco sempre così. Dove? L'entrata principale. Preso, preso il bacco. Dai, mi è proprio. Dov'è? Dov'è l'altro? Ehi, guarda dove era! Nell'angolino lo sapevo che eri lì, maledetto! Hai l'angolino dell'atrio. Angolino lì, a sinistra. Lì, lì, lì. Stai mirando bene. Dalla parte di Tommy. Angolino dietro di Tommy. Ma non pusciatelo. Non pusciatelo, raga. Ti dirò, il black eye che ha messo qua... Tommy è perfetto, quello dell'atrio. Anche quello dietro è buono. Drone, drone di me, l'atrio principale. Postati, Tommy. Rimani lì dietro, rimani lì dietro. Tra gli altri, come vuoi. Stai io qua il più... Ok. Sì, siete in due lo state mirando. Da cacchio! Non sfidano. Ma l'ho. Eh no, come non lo sfida? Oh. Grigia, è entrato, è entrato! Buona tua, Tommy! Come ha fatto a non morire? What a faa? È entrato, è entrato, è entrato, di nuovo, di nuovo, sai, 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 sai. Eeeh, è immortale! Non ti lascia, non ti lascia, Pedro il burro, qui. Qui non ti lascia, Pedro il burro. Immortale. No, ma era immortale, ragazzi. Non è, cioè, non lo so. Ho giocato bene. Ho giocato, ho fatto un botto di kill 2 e quello shiro, veramente bravi. Compressione, ho giocato di squadra, gg, va bene. Però vediamo se mi sono ripresi a Platinum 2, eh? Magari. Yes! Quasi non mi ripreso. Non ci arriverò mai al Diamond, è un dato di fatto. Quindi, ragazzi, mi raccomando, like mi supporto a questo video, a questa serie, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi, ragazzi, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!